Tre comuni del Vallo di Diano, Polla, Teggiano e Sala Consilina, insieme alle Cilentane, Castellabate e Casalvelino, sono state inserite nell'elenco dei comuni pubblicato dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, che potranno freggiarsi della qualifica di città che legge per il biennio 2018 e 2019. È stato selezionato sulla base di un avviso pubblico divulgato nei mesi scorsi. L'iniziativa intende promuovere e valorizzare con la qualifica di città che legge l'amministrazione comunale, che si impegna a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. L'inserimento nell'elenco delle città che leggono darà la possibilità di partecipare ai bandi che il Centro per il Libro e la lettura diffonderà nelle prossime settimane, per premiare i progetti più meritevoli, da sottolineare il doppio titolo in possesso al Comune di Polla, insignita anche del titolo di città del libro.